Niccolò Belloni entrato dalla panchina insieme con Beretta avete fatto la differenza soprattutto in quello scambio che ha fruttato il gol vittoria? Sì il mister ci ha detto di stare davanti attaccare la profondità io solitamente gioco esterno però mi ha detto di giocare dietro la punta proprio perché Mari sono rapido e attacco la profondità però abbiamo una buona intesa ci siamo trovati bene e poi nel gol è stato bravo lui e Fabiano a creare l'azione io mi sono mosso dietro e per fortuna è andata dentro. Per fortuna dici perché magari la partita forse se finiva in parità non sarebbe stato uno scandalo? No è stata una partita equilibrata infatti se fosse finita pari complimenti a tutte e due le squadre però è andata così e per noi va bene così. Anche perché venivate da una brutta sconfitta e avevate mezza difesa fuori gioco? Sì abbiamo due difensori che erano squalificati e chi è infortunato in casa abbiamo avuto la prima sconfitta della stagione quindi Mari era un po' una partita delicata però siamo riusciti a venirne fuori bene. Di solito a questo punto si fanno le dediche? Io devo ringraziare tante persone, la mia famiglia però volevo dedicare questo gol a Ronaldo che si è infortunato un po' di tempo fa e oltre ad essere mio compagno è anche un mio grande amico quindi li faccio in bocca al lupo e gli dedico questo gol